Alla stessa ora del Quirinale in diretta social contro il discorso di Beppe Grillo Stiamo diventando adulti, dice il garante del Movimento 5 Stelle Presto faremo le parlamentarie e selezioneremo i candidati in modo più limpido Poi annuncia, girerò il mondo parlando di futuro e intelligenza artificiale Sulla campagna elettorale dice, resterò un po' defilato Il Presidente Mattarella ha parlato di futuro e di programmi di governo serie e concreti Oggi siamo l'unica forza politica a avere un programma concluso Stiamo andando in tutta Italia a spiegarlo E se venisse attuato una volta fossimo al governo Migliorerà la vita di tutti gli italiani